C'è una sedia importante, semplice ed efficiente. Nonostante la complicità del progetto, volevamo una sedia robusta e leggera. È stata una grande sfida, ma ce l'abbiamo fatta. La sedia è un prodotto di alta qualità, sia per i materiali utilizzati, ovvero leghe di alluminio di derivazione aeronautica, sia per tutti gli accessori che ne permettono un facile utilizzo. Extra Ergolift è una sedia montascale motorizzata. È la sedia più avanzata mai prodotta da Meber. È unica, semplice da usare, affidabile e mette in condizione l'operatore e il paziente di salire e scendere le scale in assoluta sicurezza. La sedia Extra Ergolift è dotata di una console di comando wireless mediante tecnologia Bluetooth. Il display fornisce informazioni sullo stato di carica della batteria principale, della batteria della console, della presenza del segnale Bluetooth e dell'impiego del freno di emergenza. Abbiamo pensato a questa sedia per poter facilitare il compito a tutti gli operatori di tutte le fasce d'età, dal più giovane al più anziano. Un prodotto come Extra Ergolift, quindi una sedia motorizzata, ci aiuta molto nella programmazione dei turni, perché ci dà la possibilità di includere anche persone che normalmente richiedono aiuto fisico, come ragazze, persone anziane o comunque su con l'età. Extra Ergolift è stata pensata per i servizi ordinari. Questo permette di portare pazienti da pian terreni fino all'ultimo piano delle loro abitazioni, limitando al massimo gli sforzi da fare. Uno dei principali obiettivi del nostro progetto era quello di realizzare una sedia con grande facilità di utilizzo. Extra Ergolift è molto stabile, soprattutto grazie alla lunghezza dei suoi cingoli. La guida è molto semplice. Con il semplice tocco di un dito andiamo ad agire su due levette nella console di comando che permettono di regolare la velocità dei cingoli sia in salita che in discesa. Questo permette all'operatore di avere un buon feeling con la sedia e avere sempre la percezione di avere il controllo su di essa. Oltre al cingolo maggiorato permette al paziente di avere una totale sensazione di sicurezza, non sentendo scossoni durante la salita o durante la discesa. La sedia è molto comoda anche durante la movimentazione a terra, questo grazie alle ruote grosse da 200 mm di diametro. Extra Ergolift sicuramente agevola il trasporto di pazienti bariatrici, ovvero molto pesanti. La portata infatti è di 200 kg. Indubbiamente Extra Ergolift può essere utilizzata al di fuori dei servizi ordinari, ossia come sedia di emergenza da utilizzare in caso di calamità naturali o circostanze extra-ordinarie. Le componenti critiche della sedia hanno un isolamento IP65. Permette l'utilizzo della sedia in caso di maltempo, in caso di pioggia e in presenza di polvere. Nelle emergenze ovviamente non c'è pianificazione. In questi casi puoi contare esclusivamente sulla tua esperienza e sulla tua attrezzatura. Sono molti i casi in cui è necessario prelevare un paziente non traumatico magari da un semainterrato o comunque con la necessità di dover fare scale in salita. Tutti i soccorritori sanno che c'è una notevole incidenza di casi cardiologici, respiratori o eventualmente neurologici che sono assolutamente compatibili con un trasporto su una sedia di questo tipo. Abbiamo mantenuto la seduta leggermente più larga rispetto alle sedie tradizionali. Nei servizi ordinari capita frequentemente di effettuare demissioni o di accompagnare i pazienti alla dialisi, per esempio. Quando tornano a casa sono molto spesso debilitati ed è molto importante che la sedia sia confortevole. Può essere utilizzata anche per la ricollocazione di pazienti in strutture a seguito di cataclismi. Recentemente il nostro paese è stato oggetto di eventi dovuti al disesto idrico e geologico. Tutte situazioni in cui cambiano completamente gli scenari tradizionali. Durante o dopo eventi di questo tipo ci si può anche aspettare il malfunzionamento di ascensori o montacarichi. Grazie ovviamente ad una sedia motorizzata questi problemi vengono superati ed è quindi molto più semplice ricollocare pazienti e dare supporto eventualmente a strutture gravemente danneggiate. La gamma delle sedie Extra è stato un grande successo commerciale in questi anni. La Extra Ergolift è il naturale completamento di questa gamma di successo. È stata una grande sfida ma ce l'abbiamo fatta. Grazie. 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 Grazie.